Ciao a tutti! Oggi faremo la crema al burro e gli ingredienti che ci servono sono 7 ml di latte, 56 grammi di burro, 112 grammi di zucchero a velo. Ora abbiamo messo nella planetaria tutti gli ingredienti. Abbiamo aggiunto anche un po' di vanillina. Questa è la consistenza della crema al burro, che è molto utile nella pasticceria per ricoprire delle torte e decorare dei cupcake.